Allora, pronti? Allora, vado! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 No, macchina! Vai, macchina! Vai, macchina! Vai, macchina! Allora, posizioni dopo un minuto di gara Manciocchi, De Angelis, Fonti, De Vincentis, Scimarello, Nicosanti, Sarra, Morgagni, Cuomo, Di Gaetano, Cuomo, Urbani, Rossi, Vita, Vecco, Confan Allora, posizioni dopo un minuto di gara Allora, posizioni dopo un minuto di gara Grazie 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 No, 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 macchina, macchina, macchina Ragazzi Davanti pronti dal primo al secondo il primo posizioni Manciocchi Esquet, De Vincentis Benetton, De Angelis Lotus Camel, Morgagni quarto con la Renault, quinto Sarra con la Lotus Camel, sesto Nico Santi con la Jordan, settimo Cimarello con la Salter ottavo punti con la Meccanella in motore, nono Cuomo, decimo Cuomo, Urbani, Rossetti, Giorgio Confatti Rossetti e Giorgio sono fermi Oh, Machina, ragazzi e prima ha perso dieci secondi che domanda hai fatto? stanno un pochino per il vino posizioni Manciocchi Esket De Angelis Lodos Camel Morgagni Renault De Incentis Benetton Sarra Lodos Camel Scimarello Sauber Dico Santi Giordan Fonti McLaren Malboro Di Gaetano Sauber Urbani Williams Cuomo Leiton House Cuomo Mauro Leiton House Pitlane chiusa Silenzio 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 Lodos Camel Scimarello Salber Niko Santi Giordan Fonti McLaren Malboro Di Gaetano Salber Urbani Williams Cuomo Cuomo Con le due Leiton House Il Ministro Il Miro Il Niko Si Il Il 9 minuti e l'acqua adesso che stai al sorpasso di Morganni con la Renault su De Angelis con la Lotus Camer quindi secondo Morganni con la Renault adesso Morganni con la Renault è a 12 secondi da Manciocchi con la ESC che ha il comando seguito da De Angelis con la Lotus Camer da De Vincenti con la Peret 8 minuti alla pista parco silenzio sul palco se no scendi silenzio parco 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 la macchina tranquillamente, basta! 6 minuti alla fine questo è The Andrews Marco se vuoi ti puoi pure fermare perchè abbiamo reali i tempi Matteo 5 secondi non manciò qui questa l'angels eh? 5 minuti alla fine non manciò qui questa l'angels eh? si 5 minuti alla fine posizioni Manciocchi Esket, Morgagni Renault, De Angelis Lotus Camer De Vincentis Benetton, Nico Santi Jordan fronti McLaren Malvolo Scimarello Sauber Dicatano Sauber Poltani Williams Cuomo Matteo Leiton House Cuomo Mauro Leiton House Quattro minuti alla fine Quattro minuti alla fine Sì 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 McLaren Malvolo Dicatano Sauber Urbani Williams Scimarello Sauber Cuomo e Cuomo con le due Leiton House Occhio Eh Deve lo fa passare ma No 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 Silenzio Ditele Ditele inchiusa Sì 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 2 minuti alla fine posizioni Manciocchi Esket, Morgani, Renault, De Angelis, Lotus Camer, De Vincentis, Benetton, Nico Santi, Jordan, Fonti è a sesto posto con la Meclare e Marlboro, Di Gaetano, Salper è settimo, Ottavo, Urbani con la Williams, Cimarello con la seconda Salper è nono, decimo e undicesimo le due Leighton House. Manciocchi 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 30 secondi alla fine posizioni invariate Manciocchi, Esket, Morgagni, De Angelis, Lotus De Vincentis, Benetton, Nico Santi, Jordan Funti, McLaren, Malboro, Ulbani, Williams Di Gaetano, Salper, Cuomo, Matteo con la Leiton House Cimarella, Andrea con la seconda Salper Cuomo, Mauro con la seconda Leiton House dovete chiudere tutti in giro Mancano gli stop ancora tutte le macchine sono scoppate fermate, macchine tutte in verifica